Per il Sulmona Futsal all'esordio casalingo arrivano altri tre punti importanti. Il successo contro l'Es Chieti Calcio a 5 è giunto al termine di una gara ampiamente meritata dalla squadra di Benjamin Fonte. Match sbloccato al quarto d'ora con Junior e chiuso nel primo tempo con un solo gol di vantaggio. Nella ripresa i biancorossi si sono mostrati più concreti riuscendo ad incrementare il punteggio sino al definitivo 8-2. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché le trasmissioni, come ho detto alla fine dello spogliatoio, erano un po' lunghe. Abbiamo giocato un po' troppo distanti. Nel secondo tempo abbiamo avvicinato, abbiamo accorciato le distanze e quindi siamo riusciti a fare un gioco un po' più arioso, come piace a me. I marcatori del Sulmona Futsal sono stati ginnetti con una tripletta, veneziale con una doppietta, Junior e Porcu. Diversi giocatori che hanno fatto centro quest'oggi a dimostrazione della validità del gruppo. Assolutamente. Diciamo che abbiamo fatto anche dei bei gol, belle combinazioni sia in ripartenza che in costruzione. Siamo stati bravi, sono contento della prestazione dei ragazzi. Insieme alla partita della settimana scorsa sono sei punti in meno per la salvezza. Al termine della seconda giornata di andata i Sulmonesi guadagnano la vetta solitaria in qualità di unica squadra del campionato a punteggio pieno. Se l'aspettava sei punti dopo le prime due giornate in C1? No, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Il gruppo è un bel gruppo, sono ragazzi volenterosi che hanno voglia, che hanno il piglio giusto, che hanno la condizione atletica anche giusta per poter tenere questa categoria. Il tecnico Fonte invita a rimanere con i piedi per terra perché siamo solo agli inizi. Abbiamo già parlato nelle settimane scorse della costruzione di questa squadra, è stato confermato il gruppo della scorsa stagione, integrato con giovani validi che hanno già fatto gruppo tra di loro in altre squadre negli anni passati, poi ciliegina sulla torta junior e quindi vediamo serenità, compattezza. Quanti aggettivi possiamo usare di questa squadra dopo aver visto la prestazione di oggi in campo? Io tenderei a volare basso per il momento perché comunque è un campionato complicato, è un campionato diverso e noi ci dobbiamo abituare alla categoria, tutti, l'ho detto sempre, dalla società a me, ai giocatori. Non sarà facile mantenere questo ruolino, poi ci proviamo e il gruppo sicuramente è un bel gruppo e io di questo sono felice perché comunque non ho fatto nulla per crearlo e si è creato da solo e quindi questo mi riempie di orgoglio e verso questi ragazzi perché sono dei ragazzi che veramente ci mettono tanto. Degli esposti tra gli elementi importanti della scorsa stagione che fa parte ancora di questo gruppo del Sulmona Futsal, c'è un'ottima intesa tra i vecchi e i nuovi di questa squadra che adesso festeggia per i sei punti dopo sole due giornate di campionato. Una bella partita quest'oggi, ecco partiamo dal confronto di oggi. Sì, la squadra avversaria è una squadra molto forte, ce l'aspettavamo, noi però abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto in settimana di fare, soprattutto nel secondo tempo, siamo migliorati tanto rispetto al primo e sì, c'è molto affiatamento, molto gruppo anche con i nuovi arrivati rispetto a quelli dell'anno scorso. Come dicevo poco fa al mister Fonte ve lo aspettavate sei punti dopo le prime due partite in C1? Ma oddio, aspettate... Tu hai invitato a volare bassi comunque giustamente? Sì, pensiamo partita dopo partita e preoccupiamoci soprattutto solo di noi stessi, lasciamo stare gli altri e niente. Ogni sabato affronteremo una partita diversa, sempre con l'obiettivo e con la voglia di portare a casa tre punti. Poi i conti si fanno sempre alla fine. La partenza sprint del Sulmona Futsal non deve ovviamente far illudere, ma evidenzia i valori di una squadra completa, formata da un mix di vecchi e nuovi elementi. Prima dell'introduzione ho menzionato il gruppo della passata stagione, importante per il salto di categoria dalla C2 alla C1. Adesso tu, insieme a diversi altri, ti trovi in questa squadra, quindi un gruppo fantastico che vuole continuare a far bene. Sì, un gruppo soprattutto di ragazzi giovani, poi abbiamo il capitano che insieme ad Andrea e Junior alzano un po' il livello d'età, però è un gruppo di giovani con questi tre elementi che servono per esperienza e niente, è un gruppo molto importante, ci troviamo tutti quanti molto bene.